Buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6 è giovedì 19 luglio 2018 come sempre un'ora in vostra compagnia per raccontare quelli che sono i fatti principali della giornata di ieri rivisti attraverso le pagine dei giornali e attraverso i servizi del TG6. Iniziamo subito la nostra rassegna con le prime pagine dei quotidiani locali. Questo è il centro con l'edizione di Pescara, titolo d'apertura dedicato alla cronaca investita sulle strisce da una ubriaca. Pescara incidente sulla riviera, multa e patente ritirata la ragazza in ospedale. E poi la fotonotizia, la giornata particolare del comico pescarese. Olivieri come Don Matteo arriva in bici e celebra le nozze. Poi ancora la cronaca, parla il fratello uccise Jennifer, non crediamo alle sue scuse. La maturità, un esame da 100 e lo dedica alla professoressa Angrilli, morta per essere stata ammazzata. Lo ricorderete insieme alla figlioletta da Fausto Filippone, a sua volta suicida dopo che si lanciò dal cavalcavia della 14. La tragedia, dolore e rabbia a Rigopiano 18 mesi dopo. E poi sotto la testata ancora Abruzzo, trasporti nei centri montani, studenti pendolari dei bus, arrivano sconti del 10%. La borsa della spesa in Abruzzo aumentano i prezzi di pasta e benzina. E poi di spalla alcuni eventi che sono sintetizzati nell'inserto dedicato agli spettacoli. L'aquilone del centro di Sorder Festival, Giulianova, si tinge di blues. E poi ancora la rassegna, estate nere tese con operetta, libri e teatro. E quindi a Pescara il jazz di Coinaim e Damiani, al porto turistico. Poi a piedi pagina il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, sei robot diventano giurati di un festival. Siamo alla pagina di Chieti Lanciano Vasto, l'apertura, neurologia, il caso delle liste bloccate. A Chieti, prenotazioni ferme, il primario, incomprensioni per errori del CUP. Siamo alla fotonotizia, Università d'Annunzio, la neolaureata Maura Mantelli, riconoscimento unesco per la tesi sulla via verde. E poi ancora la cronaca, Chieti, false fatture coinvolti, 800 lavoratori. A Lanciano passa il bilancio, il comune torna ad assumere. A San Salvo, musica di notte, la lite sui decibel finisce in aula. L'edizione terramana del centro, l'apertura con la cronaca, delitto per gelosia, 30 anni al killer. Alba col dasci condannato per la morte del 22enne, Manuel Spinelli. E poi ieri il primo consiglio comunale a Teramo, malumori nel PD. D'Alberto, la mia è una giunta per il cambiamento. E poi ancora Alba Adriatica, blizzi in spiaggia contro i furbetti dell'ombrellone. A Giulianova, spaccio di droga, arrestati due anziani coniugi. Per il calcio di serie C, Teramo calcio, si riparte dai giovani. Ieri il raduno del Teramo all'albergo Valvomano di Pena Sant'Andrea. Più tardi vedremo anche il servizio. Il centro edizione aquilana, PD e Forza Italia. Bertolaso, fine dell'incubo. L'Aquila, il deputato Ansaldi e Silveri, soddisfatti per la soluzione. E poi la fotonotizia, attentato a un box per la vendita dei fiori al cimitero. Avezzano, c'è il filmato di una videocamera. All'Aquila, restituzione delle tasse, sale la tensione. Sempre all'Aquila, parco della memoria. Entro l'estate parte l'appalto. A Sulmona, il piromane torna in azione. A fuoco tre auto. E ora il messaggero. L'apertura, maxifrode su 800 lavoratori. La truffa scoperta dalla finanza di Chieti. 36 società non pagavano i contributi coinvolti il settore dell'elettronica e dei supermercati. Associazioni a delinquere. Poi sotto la testata per la sezione itinerari d'estate. Pesco Costanzo, il borgo dove ci sono soltanto dei capolavori. A Teramo la provincia sblocca i fondi alle imprese per il sisma. E poi per il calcio. Pescara, rosa più ridotta. E poi il nuovo Teramo si presenta. Francavilla è stato il giorno di Rachini con vernissaggi e ottimismo. L'Avastese si rinforza in attacco. Dopo 11 anni torna Harry Shiba. Di spalla, carabinieri e università per far nascere i supercavalli. A Castel di Sangro un'intesa scientifica per la fecondazione assistita e le cure mediche. E poi la fotonotizia. Rigopiano, ricordi e lacrime. La messa sul sito della catastrofe che è stata celebrata ieri pomeriggio a 18 mesi. Ieri era appunto il 18 luglio. A 18 mesi dal giorno della immane tragedia dell'hotel Rigopiano. E poi sempre in taglio medio. Consiglio, votazione bis per eleggere Melarangelo. Teramo. Tensione al debutto della nuova giunta. Verna esce dall'aula. E poi in basso regione medicine e farmacie. E chiudiamo con la città. Il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura accusato, picchiato, diffamato. Roseto. Eppure non era lui il maniaco delle studentesse del liceo Saffo. Indagine. Capovolta. E poi ancora la cronaca sotto la testata. Il rogo alla fabbrica di giocattoli. Scongiurato dall'arme inquinamento a Sant'Atto. Ad Albadriatica liberate le spiagge privatizzate. A Giulianova morì in pronto soccorso. Assolto il medico. La fotonotizia. Giustizia per Manuel. 30 anni di carcere all'assassino albanese. E poi di spalla Teramo giunta. Dalberto Melarangelo è presidente con 4 mugugni. E poi sempre per la politica. Teramo. Il PD mette una toppa sui primi dissidi. In basso per la cultura. Italia in crisi. Parola di PG Battista. Ospite domenica a Castelbasso. E per il calcio, come detto, Teramo comincia il ritiro. Lasciamo i quotidiani locali. Andiamo sui nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera che apre così scontro tra Di Maio gli industriali. Il ministro terrorismo psicologico sul lavoro. Governo diviso su armi e legittima difesa. E poi le scelte. Via libera ad Alberto Barachini di Forza Italia. Al vertice della vigilanza RAI. Alla presidenza del COPASIR Lorenzo Guerini del PD. Sotto la testata Miss Universo. l'inglese con le treccine tra le belle del mondo. Scendiamo a centro pagina. Ecco la foto notizia con i bambini. Gioveni calciatori salvati in Thailandia. Il racconto dei giorni trascorsi nella trappola della montagna. A casa i ragazzi della grotta si scavava con le pietre. E poi in taglio medio. Unione Europea multa record da 4,3 miliardi. Google fa ricorso. Sanzioni per limiti alla concorrenza. In basso di nonno in nipote. La causa infinita da 33 anni per la garza lasciata nell'addome. Ora avvocato è il figlio di quel cesareo. La prima pagina del Fatto Quotidiano che dà ampio spazio all'intervista al Presidente del Consiglio Conte. Ecco chi sono e cosa faccio. Il Premier si racconta e risponde su tutto. La nuova mossa con l'Unione Europea sui migranti. I rapporti con Di Maio e Grillo. Mi disse tu sei quello normale. E Salvini. La legittima difesa. Il condono. Dice di ispirarsi a Moro. E spiega il curriculum e i problemi con il fisco. E poi in basso. Ieri altro naufragio. Il Ministro Filo Libico. Migranti. Le prove anti-ONG di Salvini. Sono ancora disperse. La prima pagina di Repubblica. Nomine. Lite. Continua. La Lega Movimento 5 Stelle. Salta l'intesa sulla Cassa di Stato. Ex giornalista a media setta la Vigilanza Rai. sulla legittima difesa. Buona fede. Frena Salvini. Bisogna approfondire. E poi in taglio medio. Anche in questo caso la fotonotizia dedicata ai ragazzini salvati in Thailandia. I ragazzini della grotta. Tornano a sorridere. Ecco i nostri sogni. E poi in basso. L'Unione Europea all'attacco di Google. Multa record da 4,3 miliardi. Sotto accusa Android. E ora il messaggero. L'apertura. Contratti. Lite. Di Maio. Industriali. Confindustria. Effetti del decreto peggiori delle stime IMSS. Evitare retromarce sulle riforme. Il Ministro. Terrorismo psicologico. Delocalizzazioni allarmanti. Conte. Ora incentivi e correttivi. Siamo ora sotto la testata. Per 75 milioni. Roma. Alisson. Val. Liverpool. E il portiere più pagato di sempre. L'affare è stato completato ieri. E poi in taglio medio. Tensione con il carroccio sulle armi libere. Legittima difesa. Frenata grillina. Ma Bonafede dice. Resta una priorità. E poi ancora. A centropagina. Baby calciatori a casa. Faremo i nevi seals. I ragazzi lasciano l'ospedale. Nutriti di acqua di roccia. E poi. Sempre in taglio medio. Processo alla raggi. Il fratello Di Marra. Nomina da evitare. La responsabile anticorruzione in aula. Non potevo dubitare delle parole del sindaco. Oggi avrei detto no. E poi ancora. Siamo sulla prima pagina di Libero. Ecco l'apertura. Con i paradossi dell'immigrazione. Servono 50 mila badanti. Importiamo gente. Che poi assistiamo noi. Anziché recrutare domestici. Manteniamo qui da noi. Mezzo milione di extracomunitari. Che non fanno nulla. E spelleremo a forza 20 mila detenuti stranieri. E poi. I pregi e i difetti della linea dura. Da un lato Renato Farina. Dice a Salvini. Converrebbe mostrare più umanità. E poi Vittorio Feltri. D'altro canto. Dice. Il cinismo è l'arma di chi ha buon senso. E poi. Questa immagine di Ilaria D'Amico. Rivoluzione calcistica Sky. L'Ad Amico fuori dalla seria. Si consola con la Champions. Si chiede Libero. E poi ancora. Il sole 24 ore. Maxi multa dell'Unione Europea a Google. 4,3 miliardi. Sul fronte concorrenza. Questa maxi sanzione. L'accusa negli smartphone. Monopolizza la pubblicità. Grazie al sistema operativo. Il colosso annuncia ricorso e minaccia in futuro forse Android a pagamento. Nel 2017 un'altra ammenda di Bruxelles da 2,4 miliardi per Google Shopping. E poi ancora in taglio medio Confindustria. Non smontare le riforme. Decreto lavoro. Le critiche delle imprese. Il ministro Di Maio. È solo terrorismo psicologico. E poi questo numero. 15,7 anni. Sale il tempo medio di realizzazione in Italia di una grande infrastruttura. oltre i 100 milioni. Era di 14,7 anni. Quattro anni fa. Quindi un incremento di un anno. E poi il ministro Tria. 150 miliardi per investimenti in bilancio. 118 subito attivabili. Siamo sulla prima pagina di Libero. Che apre con il buco nella rete. Multa record di 4,3 miliardi di dollari dell'Unione Europea. Google accusata di posizione dominante. La decisione in un clima di guerra commerciale degli Stati Uniti con l'Europa. L'anticipa l'entrata in campo di nuovi giocatori nel risico della rete. E la crescita di un sovranismo digitale. E poi sotto la testata sicuri da morire stragi a Cipro. Odissea a Zarzis. Proseguiamo con il mattino. Che apre così bilanci, sanità e liste d'attesa. I passi avanti della campagna. De Luca presenta al ministero i dati 2017 sull'assistenza. Stoppa ai commissari. Aumentano i posti letto. Vaccini sopra la media nazionale. E calano i parti cesarei. E poi ancora contratti. Scontro di maio imprese. Confindustria. Effetti peggiori delle stime IMS. Il ministro. Fanno solo terrorismo psicologico. E sotto la testata. Le nuove maglie. Napoli da battaglia. Se il ciuccio diventa una pantera. Poi ieri è stato anche il Sarri Day. La presentazione del nuovo allenatore del Chelsea. Ex Napoli. Ovviamente trova spazio sul mattino. Il debutto new style. Già che cravatta. Il mio silenzio volevo lasciare. Dice Maurizio Sarri. E ora la stampa. Ecco l'apertura all'Italia. Sarà italiana. La svolta nazionalista del governo giallo-verde Toninelli. Vogliamo il 51%. Si studia il coinvolgimento di CDP e ferrovie. E poi nomine. Braccio di ferro per la cassa depositi. Difficoltà per la di Rai. E poi ancora la fotonotizia. A Thailandia i ragazzi della grotta. Ci saziavamo con l'acqua. Il tempo. Ecco la prima pagina. L'Italia agli italiani. Torna lo Stato all'azienda che solo dal 2008 ha fatto 7,4 miliardi di buco. Il governo blocca la vendita. Esultano piloti e personale. Meno i contribuenti. E poi il tempo di Oscio. Con una foto dello scrittore Roberto Saviano. Sui profughi. Ascolta la DIA. Mometocca. Scopiazza. Qualcosa. Pure su ste mafie straniere. Avanti con il giornale. E l'apertura. La segretaria di Di Maio. Pagata più di un primario. La replica. Io fortunata ma merito due stipendi. La base dei 5 Stelle è critica. E Gigi Nova in tilt. Confindustria. Terrorismo. E il curriculum non si trova. E poi la fotonotizia. Ministro della barca inglese di D'Alema. Si chiama come la figlia. Batte bandiera britannica. Ma è sempre l'Icarus. Siamo sulla verità. Ecco l'apertura. Dirigente CNR. Drogare gli italiani. Così non voteranno più per Salvini. Ossitocinarma. Finale pro-invasione. Gilberto Corbellini. Un signore pagato con i nostri soldi. Rilancia. Lo studio tedesco denunciato l'anno scorso dalla verità. Somministrare alla gente un ormone per abbattere l'innata diffidenza verso gli immigrati. La fotonotizia con Boeri. Il Narciso Rosè si occupa di tutto. Tranne che nei guai della sua IMS. In taglio medio. Pericolose acrobazie. A 5 Stelle su Alitalia. Di Maio cerca investitori esteri per rilanciarla. Toninelli. La uova italiana. Il rischio è un altro salasso. Chiudiamo con la prima pagina di avvenire. Ecco il titolo d'apertura. Parole e naufragi. Si litiga sui salvataggi. Un'altra nave va a picco. 50 morti a Cipro. Tunisia. Bloccati in 40. È ancora giallo sulla donna. Il bimbo lasciato in mare. Buona fede. Moavero. Porti libici. Non sicuri. Mattarella. L'accoglienza è valore. chiave. Lasciamo i quotidiani nazionali. O meglio. Andiamo a vedere quelli sportivi. Le prime pagine di Gazzetta Corriere e Tutto Sport. Prima di tornare alla cronaca dei quotidiani locali. Ecco la Gazzetta. Giorni caldi al Milan. Bonucci vendesi. Il club disposto a cederlo. Il suo procuratore tratta con il Paris Saint Germain di Buffon. Oggi verdetto tasse. Europa in bilico. Ma Elliot prova la rimonta. E poi CR7 sotto la testata. Estate sprint. Ronaldo in vacanza di lavoro per giocare da subito al Max. E poi di spalla. Alisson il portiere più caro di sempre. Va a Liverpool. 75 milioni alla Roma. E poi ieri secondo test per l'Inter contro il Sion. Nainggolan va a K.O. E l'Inter in Svizzera. Sparisce nel nulla. In basso. Sarri a Londra. Già un Sir. New Style. Via la tuta a Londra. Giacca e cravatta. Io special. No. Chiamatemi solo Maurizio. Il Corriere dello Sport. Apre proprio con la presentazione di Maurizio Sarri. Il Chelsea di. Non Mou. Maurizio Sarri. Che si presenta a Londra e convince tutti. Prova a vincere con Napoli nel cuore. Io e De Laurentiis abbiamo sbagliato. Sotto la testata. Alisson da Salah. Pallotta l'ho ceduto a Liverpool. Conti sistemati. Ma le ambizioni? Punto di domanda. Poi ancora tutto sport con l'apertura pazzesco CR7. Il suo posto di saluto all'Allianz è stato seguito da un numero impressionante di fan. Anche in vacanza si allena due ore al giorno per presentarsi in forma il 30 luglio sotto la testata. Milan oggi il TAS decide. Gigio la chiave per Morata. E poi fronte Toro. Cairo spesi 49 milioni. Ma interverremo ancora. Lasciamo i quotidiani nazionali, anche quelli sportivi. Torniamo sui quotidiani locali. Siamo a pagina 2 del centro. L'argomento è quello dei trasporti nei centri montani abruzzesi. Studenti pendolari. Sconti sui pullman. Il presidente del Consiglio regionale Di Pangrazio dice i comuni interessati sono 129 e il risparmio sarà del 10%. E allora andiamo a vedere il servizio proposto ieri dal Tg6. La misura di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate è finalmente una realtà, grazie ad una legge regionale e ai risparmi del Consiglio regionale. 200 mila euro per il 2018, 100 mila per l'anno successivo. Sono 129 i comuni delle aree interne interessati dal provvedimento che permetterà in sostanza una scontistica a studenti dagli 11 ai 26 anni del 10% sull'abbonamento. 129 comuni, gli studenti verranno lo sconto del 10%, direttamente applicato dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Lo studente si presenterà lì per fare l'abbonamento e si verrà subito la riduzione del 10%. È una misura importante, aiuta soprattutto i cittadini a non abbandonare i piccoli centri del nostro Abruzzo montano, ma soprattutto un Abruzzo che è conosciuto nel mondo, non tanto per il resto, ma per le bellezze ambientali, la montagna e questi piccoli centri incastonati. È una seconda misura che abbiamo messo in atto, ce ne sarà qualcun'altra ancora sulla quale stiamo lavorando. Io immagino che questa possa essere la legge sulla montagna se noi continuiamo su misure che possano portare a una riduzione del costo di vita in questi luoghi di circa il 20-25%. 200 mila euro per il 2018, questi fondi arrivano dal risparmio del Consiglio regionale? Sì, 200 mila euro per il semestre, quindi da settembre a dicembre, è il risparmio del Consiglio regionale. Voi sapete che ogni anno facciamo una conferenza, lì in una maniera molto razionale, con i risparmi che riusciamo ad ottenere, finanziamo leggi che colpiscono l'obiettivo. Questo vuol dire buone leggi, una buona qualità. L'ultima fatta è quella di circa 1 milione e 300 mila euro per l'aiuto alle piccole e medie imprese ricadenti nel scratere dell'ultimo sisma, anche lì per la ripresa dell'attività economica. Sempre sul centro, stangata sui consumi, in salita, prezzi di pasta, vino e benzina. Tutto questo all'interno della nostra regione, lo rivela l'Istat. Fedeli consumatori, ogni famiglia spenderà 385 euro in più le regole per risparmiare sulla spesa. Questa è una lista degli aumenti, il principale su pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta, e poi il riso, via via tutti gli altri aumenti. Il rovescio della medaglia, gettate 111 mila tonnellate di cibo, un protocollo contro lo spreco. In basso, Montepulciano, grande festa per 50 anni d'occa. Ortona, centinaia di ospiti all'evento promosso dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. Proseguiamo, andiamo sulla pagina Abruzzo, eccola qui, ieri vertice a Roma, ospedali e sanità in Abruzzo. I 5 stelle dal ministro Grillo, ecco qui il sottosegretario Vacca, i consiglieri regionali Pettinieri e Marcozzi e il ministro Grillo. E poi in basso, gli affari, venite a farli in aeroporto, una stanza per il business, ecco il progetto di Paolini, uno sponsor coprirà i costi. Di Spalla, nuovo ospedale di Chieti, Febbo, esposto in procura sul project financing, marketing territoriale, la Casellati, visita l'Abruzzo alla scoperta del nostro vino. Poi a proposito di Senato, doppio incarico di D'Alfonso, Gasparri presiede la giunta. Pagine ora di cronaca a Pescara, incidente all'altezza del Giambo, guida ubriaca sulla riviera, investe ragazza sulle strisce, multa, ritiro della patente, denuncia per la conducente, la giovane in ospedale. E si innesca anche la polemica, Forza Italia, polemica sugli interventi vicini all'ospedale, lavori sulla segnaletica, serve programmazione. E poi ancora, in Viale Regina Margherita, pericoli per le due ruote, sulla pista ciclabile in centro, le auto sfrecciano tra le bici, macchine e furgoni in doppia fila, trasformano il tratto in una trappola per ciclisti, le foto scattate dal centro documentano quello che avviene quotidianamente. Ecco qui un passaggio di un mezzo proprio sulla pista ciclabile, mentre passa anche una ciclista, idem in quest'altro scatto. Arrestato sul lungomare, teme il tradimento e perseguita il rivale, l'uomo bloccato mentre minaccia il conoscente della compagna, costretto a barricarsi in casa dopo mesi di paura. La vittima aveva segnalato la vicenda al questore già nei mesi scorsi, ma l'ammonimento non è bastato affermare lo stalker che due giorni fa ha seminato il panico. E poi, un taglio medio, attenti a quello che fate con i social, i consigli della polizia postale per evitare di essere presi di mira. Bisogna blindarsi, essere diffidenti. E poi ancora la cronaca sconto al killer di Jennifer, mai creduto alle scuse. Il fratello della ragazza uccisa dall'ex commenta il ricorso in appello di Troilo. Ce l'aspettavamo, ma vinceremo la nostra battaglia. Cambiare la legge. E poi la lettera di pentimento. Se è vero che si è pentito come ha detto prima di essere condannato, allora dovrebbe chiedere solo l'ergastolo per sé. Il matrimonio a Laurum. Olivieri fa Don Matteo e celebra le nozze. Lo sciomeno arriva in bici come il protagonista della fiction e suggele il sì dell'ex batterista di Drupi, Danny Manzo. E poi in taglio medio, studentessa dedica il 100 alla prof Angrilli, i più bravi del liceo scientifico da Vinci. In 25 hanno preso il massimo dei voti, 9 anche la lode. Poi parla il preside Giuliano Bocchia, spesso i ragazzi si accontentano della promozione. Bisogna stimolarli a fare di più dall'anno prossimo. Faremo tre scrutini. E poi il ricordo dell'allieva, la nostra professoressa ci ha sempre spinto a dare il massimo. L'ultima volta ci aveva rassicurato per gli esami. Penso a lei. Molto bella questa dedica. E poi una realtà pescarese. Ecco qui Sport, ecco la società che fa crescere Talented Hurricane, dal triathlon al nuoto. Una palestra di vita. La polisportiva è nata nel 2014 grazie all'impegno e all'intuizione di un gruppo di appassionati. Un team di allenatori di primo livello valorizza sia le giovani promesse sia gli atleti professionisti. E ora le pagine di Montesilvano. Sono dati CNA, tasse alte e mancano i servizi. Report annuale, numeri preoccupanti. Le associazioni servono parcheggi ed un piano del traffico. E poi ancora a Spoltore cure troppo costose. La battaglia di Simona. Simona Milella, Spoltore, madre di due figli e 40 anni dopo la malattia ha spostato sui social la sua sfida. In un mese ho speso 800 euro, bisogna ottenere l'esenzione dei farmaci da radioterapia. E poi ancora, in questo caso siamo a Francavilla. Segnalettica sulla riviera, 32 mila euro per via Moro. I lavori riguarderanno il tratto dall'auditorium Sirena a via Cattaro. Finanziato in gran parte con i soldi delle multe. L'intervento inizierà ad agosto. E poi ancora, siamo a Rigopiano per la messa che si è celebrata ieri a 18 mesi dalla immane tragedia. Finalmente un lumino sulla tomba dei nostri figli. A Rigopiano i familiari delle 29 vittime per la prima volta sull'area dell'hotel a 18 mesi dalla valanga. Lacrime e rabbia durante la messa per l'anniversario. Ecco alcuni dei momenti della giornata di ieri. Vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Vestina News. Celuca Tanda, dopo 18 mesi eccoci di nuovo qui sul luogo del dolore. Che cosa hai provato subito appena sei arrivata? Ho visto senza macerie, vedendo il pavimento, guardando bene la divisione delle stanze, del ristorante, la zona dove stavano i corpi, quasi l'immaginabile, il 17 e il 18. Fa male vederlo senza macerie, fa male vederlo con le macerie, fa male durante la rimozione delle macerie. Va sempre male, non si è tornato per niente, per nessuno di noi. Ringraziamo la procura che ci ha fatto questa opportunità di poter accedere all'area. L'abbiamo chiesto all'area un po' più esterna, sapevamo che all'interno non potevamo accedere. Però ci hanno concesso di accedere soltanto per depositare un fiore, questo lo apprezziamo molto. Stiamo insieme perché solo così forse si può attenuare un pochino. Solo così possiamo fare una strategia per pensare ai veri responsabili. Noi non ce lo dimentichiamo, sono 18 mesi e ogni giorno ci pensiamo, ogni giorno pensiamo, ogni giorno ipotizziamo chi possa essere stato il colpevole. Perché non è possibile che è stata la natura. Non ci crediamo e non ci vogliamo credere. Quello che ci fa più male è pensare che coloro che ci dovrebbero proteggere, no? Dal primo all'ultimo tutte le istituzioni sono state all'interno di queste indagini. Abbiamo 40 iscritti nel registro degli indagati e di 40, 38, 37 sono delle istituzioni. Pensare che proprio loro, protezione civile all'interno, proprio la parola stessa dice che ci dovrebbero proteggere, dovrebbero mandare sui nostri ragazzi tutelati oppure i blocchi sotto. Però sono fiducioso, fiducioso che qualche condanna deve per forza arrivare, anche perché deve essere l'insegnamento per il futuro. Perché qui chi va al governo, chi sta nella direzione comando, deve prendersi le responsabilità e fare le cose con coscienza. Sul centro, pagina di Chieti, Sanità, Neurologia, il caso delle liste bloccate, pazienti senza possibilità di prenotare una visita, il direttore Onofri, le incomprensioni nascono da errori del CUP, poi ancora il primario chiarisce. Molte persone vengono direttamente in ospedale per avere un appuntamento, ma per legge noi non possiamo darne. In basso, bambina affetta da epilessia torna a sperare, all'ospedale Salesi di Ancona, isolata la parte malata del cervello, il terzo intervento in Italia. Poi ancora la cronaca, fatture false con l'indagine della Guardia di Finanza nella Maxi Frode coinvolti 800 lavoratori, in che sta partita da una ditta di San Giovanni Teatino, acquistava all'estero e non pagava l'iva, assunzioni senza contributi. E poi ancora le pagine di Teramo sul centro. Ieri il primo Consiglio Comunale a Teramo, con il neosindaco Dalberto, giunta per cambiare la minoranza ai troppe deleghe. Il sindaco presenta gli assessori e ringrazia i consiglieri delusi che hanno fatto un passo indietro. Sui banchi della maggioranza però manca Bartolini e Verna abbandona quasi subito l'aula. E poi in basso, Melarangelo Presidente, voto bipartisan dalla minoranza Consensi e un'apertura di credito al candidato designato dal Partito Democratico. E poi il delitto di Alba, omicidio per gelosia, condanna a 30 anni la sentenza per l'albanese Koldasci che uccise a coltellati il 22enne Manuel Spinelli, soddisfatti i familiari della vittima. a Silvi dopo la visita del Vice Premier e Ministro dell'Interno Salvini. Le reazioni delle opposizioni a Silvi Comignani, illegittimo l'uso della sala consigliare per Salvini. Secondo il consigliere di centro-sinistra ed ex sindaco è stato violato il regolamento comunale. Non era la visita istituzionale del Ministro dell'Interno, ma una manifestazione politica della Lega. E poi ancora la cronaca a Roseto, violenza sessuale, scagionato un giovane, lo accusava una studentessa del Salfo, ma era uno scambio di persona, processo il fidanzato della ragazza che l'aveva picchiato. E chiudiamo con le pagine dell'Aquila, ma siamo più precisamente in Marsica, ad Avezzano, intimidazione col fuoco, attentato contro un fioraio del cimitero, benzina e bombola del gas per far esplodere un box in costruzione, segnato dal Comune, indagini sul movente. Poi in basso per Bertolaso è finito un lungo calvario, il deputato PD Anzaldi e il capogruppo comunale di Forza Italia Silveri esultano per l'assoluzione. Infine l'Aquila, l'attesa per la proroga, tasse da restituire, sale la tensione, la seduta fiume alla Camera si è chiusa con un nuovo rinvio, corsa contro il tempo per l'approvazione del decreto. Dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giorgetti, ampie garanzie sullo slittamento della data per le verifiche sui contributi. Finiamo qui la prima parte di mattino 6, diamo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte di mattino 6. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6, che riprendiamo con il messaggero e gli itinerari d'estate. Il paese dove ci sono soltanto capolavori a Pesco Costanzo, tra filigrane, merletti a tombolo e ferro battuto, nel borgo anche arte barocca e palazzi costruiti in pietra gentile. Al via la stagione degli spettacoli con musica classica, lama orchestra e il concerto clou di Paola Turci. Siamo alle pagine di Pescara, la cronaca investe una ragazza patente ritirata, alla guida una neopatentata risultata positiva all'alcol test, per questo punita con supermulta e revoca del documento. La vittima è una ventunenne di Ascoli Piceno, travolta mentre attraversava, è in neurochirurgia con 35 giorni di prognosi. L'incidente è avvenuto alle 4 di ieri notte, sulla Riviera Nord davanti al Jumbo, una serata di festa finita nel dramma. Poi ancora stalking al rivale in amore, arrestato, lite per una donna, il folle ha aggredito sul lungomare, minacciato di morte un uomo ed è stato fermato dalla polizia. Poi ancora il ritorno di Meldau a Pescara Jazz, il grande musicista sarà domani sera al D'Annunzio con lo stesso trio dell'ultima esibizione di 11 anni fa, stasera al Marina, doppio appuntamento con la band teatrina Koinaim, l'orchestra nazionale di giovani talenti. Poi ancora, sempre per gli eventi, il rock elettronico della Michelin, teatro, storie e poesie nei borghi, la cantatrice in concerto con i brani di 2640, tanti appuntamenti tra Città Sant'Angelo, Pescara e Pianella. Poi ancora, in taglio medio, neuro laureata in architettura, vince il concorso UNESCO, allieva del professor Paolo Fusero, ha proposto la sua tesi sulla costa dei Trabocchi. Ancora siamo a Rigopiano, preghiere e verità per Rigopiano, una folla di 200 persone, ha preso parte alla messa sul luogo su cui sorgeva il resort distrutto dalla valanga, fiori e palloncini bianchi, alla funzione celebrata dal priore del santuario di San Gabriele alle 16.49, l'ora del disastro. E poi ancora, siamo alle pagine dell'Aquila, Cotugno, ricognizione dei MUSP, settembre a scuola nei moduli, valutata la possibilità di utilizzare le strutture, dottrina cristiana, micarelli e liceo musicale, discusso il pieno di lavori per riportare l'edificio di Pettino in totale sicurezza. Poi ancora, in taglio medio, di Benedetto, non voglio disperdere la mia esperienza, l'ex Democrat fuoriuscito dal partito, posso ancora fare cose utili per la città. Sempre all'Aquila, luoghi del cuore, c'è anche San Panfilo, selezionata per l'Ambito, concorso nazionale del FAI, la chiesa di torno in parte, si può votare anche online. All'interno uno scrigno d'arte con il suo mirabile ciclo di affreschi di Saturnino Gatti, costituito un comitato. E ora in Marsica, bruciata l'edicola dei fiori al cimitero. Si tratta di un attentato in piena regola, certamente doloso, ai proprietari di una famiglia Rom che abita da tempo in città. Fuoco e paura per una bombola GPL che non è esplosa, è stata ritrovata dagli agenti del vicino commissariato. E ora, pagina di Chieti, maxi frode su 800 lavoratori, il business delle ditte fantasma, scoperta un'evasione da 90 milioni indagati imprenditori e commercialisti. Un giro di fatture false ha consentito assunzioni illecite nei supermercati. Vediamo il servizio del TG6. Il meccanismo perverso ed ingegnoso messo in piedi da tre commercialisti, due campagne ed un laziale, si muoveva su due piani. La frode fiscale con il sistema carosello che prevede fatturazioni false per l'acquisto di prodotti provenienti da paesi comunitari e la frode contributiva per circa 800 lavoratori assunti a loro insaputa da aziende inesistenti e impiegati in supermercati e centri logistici del Lazio e dell'Emilia Romagna. La Guardia di Finanza di Chieti su segnalazione degli omologhi della Slovacchia partendo da una fattura da 100 mila euro emessa da una ditta slovacca per l'acquisto di prodotti elettronici e ricevuta da una cosiddetta cartiera cioè un'azienda inesistente di San Giovanni Tiatino hanno scoperto, dopo tre anni di lavoro una gigantesca associazione per delinquere con ramificazioni in Abruzzo nel Lazio in Campania e in Emilia Romagna composta da 36 aziende tutte italiane che hanno sottratto al fisco complessivamente circa 90 milioni di euro tra contributi, IVA e ricavi non dichiarati il giro d'affari complessivo ammonta 190 milioni di euro e le persone indagate dalle fiamme gialle sono in totale 73 per reati di frode fiscale e contributiva Se intanto parlare di Campania e Lazio anche in relazione alle ultime informazioni di stampa che abbiamo ci viene in mente anche che magari questa organizzazione avesse ramificazioni e collegamenti con altre organizzazioni criminali Questo, come ho già detto è un elemento che stiamo cercando di valutare attentamente con le procure competenti sul momento ovviamente le indagini stanno proseguendo ma non posso aggiungere altro Mi corre l'obbligo di dire anche un'altra cosa che in questo momento stiamo procedendo al sequestro di 14 unità abitative di decine di partecipazioni societarie e di ben 107 conti correnti posteri e bancari Il meccanismo delle false fatturazioni consisteva nell'acquisto da paesi comunitari come previsto dalla normativa senza l'IVA e poi in un giro vorticoso di fatturazioni con IVA tra aziende italiane tutte società fittizie che non dichiaravano nulla al fisco che consentivano al destinatario finale della merce di avere articoli per lo più prodotti informatici casalinghi e cosmetici da rivendere sotto costo potendo anche detrarre l'IVA che nessuno aveva mai versato allo Stato ma il meccanismo ancora più ingegnoso era quello che sfruttava il lavoro di 800 malcapitati i crediti IVA maturati dalle società fittizie infatti secondo quanto ricostruito dai finanzieri di Chieti venivano per così dire monetizzati assumendo lavoratori che poi materialmente andavano a prestare la loro opera in centri logistici e supermercati di Lazio ed Emilia Romagna così le cartiere diventavano delle agenzie abusive di lavoro interinale che non versavano alcun contributo all'Inps scontando i crediti IVA inesistenti maturati ed emettendo anche fattura nei confronti dei beneficiari del lavoro dei propri dipendenti così che questi potevano avere mano d'opera praticamente a costo zero e recuperare per intero il salario netto versato ai lavoratori sempre sul messaggero siamo a Lanciano muffa nelle case Ater protesta in comune sitin sotto il municipio e volantinaggio per illustrare le condizioni in cui versano alcune palazzine del lente rischio di crolli e la mancanza di manutenzione da 50 anni in particolare nel quartiere Santa Rita denunciano gli inquilini Siamo alle pagine di Teramo Melarangelo è presidente Berna se ne va dal consiglio la prima assise pubblica da Il Via all'Era d'Alberto vicepresidenza all'opposizione Maria Cristina Marroni vice sindaco minuto di silenzio per ricordare Catarra e poi in basso fondi post-sisma la provincia anticipa 1,5 milioni le imprese Cibo e Bisognosi firmato il protocollo per aumentare le donazioni e poi ancora a Giulianova operaio morì di ulcera assolto il medico Palmiero Lattanzi si spense durante il trasporto all'ospedale era stato dimesso pochi giorni prima dal pronto soccorso a giudizio finì il dottor Luigi Danniballe di 62 anni per omicidio colposo il giudice il fatto non sussiste lasciamo il messaggero andiamo ora sulla città e andiamo a pagina 5 omicidio di Alba 30 anni all'assassino di Manuel Spinelli parenti e amici della vittima fuori dal tribunale con striscioni e magliette lacrime alla lettura della sentenza giustizia è fatta con le relazioni dalla famiglia condannato il 28enne albanese Fittim Koldasci il primo grado la pena è di 30 anni e 8 mesi poi ancora un diverbio all'uscita di un pub in mezzo alla strada insulti un pugno e poi la coltellata al cuore questa è una breve ricostruzione della dinamica appunto dell'omicidio avanti ancora la giunta d'Alberto Melarangelo presidente con 4 mugugni eletto il nuovo arbitro del consiglio il sindaco d'Alberto spiega la giunta Verna lascia i lavori in anticipo e poi ancora era Stefano Cianciotta uno dei due mister X il professionista sondato dal sindaco per un assessorato esterno al futuro ora scatta l'opzione dei consiglieri delegati ma vediamo il servizio su questa prima giornata di consiglio comunale con la nuova giunta d'Alberto con la presentazione ufficiale della nuova giunta sette assessori ha preso il via il primo consiglio comunale di Teramo dell'era d'Alberto il sindaco distribuisce le deleghe ma tiene le più pesanti per sé bilancio ricostruzione partecipate le deleghe più importanti le ha tenute per sé più che più importanti deleghe che hanno un significato in questo momento c'è una fase legata molto al momento storico che vive la città in particolare per quanto riguarda la ricostruzione che per dare un segnale forte della centralità di Teramo all'interno del creare sismico e al ruolo di Teramo città capoluogo proprio come guida del processo e del percorso di ricostruzione che in questo momento purtroppo sta andando troppo a rilento sul bilancio è una riflessione soprattutto legata a questa prima fase nel senso che ho ritenuto di mantenere la delega perché abbiamo alcune situazioni che dobbiamo verificare dopo il periodo commissariale c'è la necessità di mettere in campo una pianificazione di contenimento della spesa che ci consenta di liberare risorse al sociale per il sociale e comunque per i servizi ai cittadini e per gli investimenti la seduta inizia con gli applausi per i consiglieri subentranti gigli bianchi per un esecutivo comunale fresco giovane con tre donne tra le quali la vice sindaca Maria Cristina Marroni alla quale vanno anche l'istruzione e le pari opportunità le idee sono moltissime anche se non è la delega di mia setta competenza che è la cultura però la prima idea che abbiamo tutta la giunta perché ricordo che la giunta è un organo collegiale per cui dobbiamo decidere insieme è l'ipotesi di intitolare il teatro comunale a Ivan Graziani quindi questa penso che sarà la prima cosa che faremo e dopodiché io ho intenzione di rivoluzionare il sistema scolastico a BIMIS partendo da un'analisi approfondita ho già cominciato a leggere la normativa vigente già ad approfondire alcuni aspetti anche stanotte e quindi sarà credo che il mio timbro si potrà riconoscere con molta umiltà e con molta determinazione la minoranza si è decomposta con due assenti eccellenti Raimondo Micheli di Fratelli d'Italia e Giandonato Morra entrambi hanno prodotto giustificazioni per problemi di salute presenti invece gli altri candidati sindaci Cavallari Rocchetti e Di Dalmazio che opposizione farà lei? faremo un'opposizione nell'interesse della città l'interesse della città significa farla sui grandi temi elevare i temi perché questa è una città che deve riprendere un ruolo straordinariamente importante per far questo anche il ruolo dell'opposizione è fondamentale per alzare il livello dei temi dei progetti e delle idee insomma l'amministrazione d'Alberto parte bene anche se qualche scricchiolio si avverte distintamente all'interno della maggioranza e soprattutto nel partito democratico a cui spetta il presidente del consiglio il PD propone di eleggere Alberto Melarangelo alla presidenza e Maurizio Verna capogruppo quest'ultimo scontento di un ruolo che a lui sembra riduttivo dopo tanti anni di militanza rifiuta l'offerta con diplomazia penso che all'interno del gruppo consigliare ci siano persone che hanno le mie qualità ma hanno anche un caratteristiche del rinnovamento che oggi penso che sia una caratteristica importante di questa amministrazione insomma come si vede dall'aggiunta l'amministrazione vuole dare questo taglio all'amministrazione comunale quindi all'aggiunta ma io dico anche al consiglio comunale ed è giusto quindi che il gruppo del Partito Democratico che è il gruppo maggiore in consiglio insieme a Insieme Possiamo possa avere appunto un capogruppo capace ma che anche sia di rinnovamento rispetto a me per esempio Alla prima votazione per le elezioni alla presidenza del consiglio comunale di Teramo Alberto Melarangelo non raggiunge i due terzi dei voti viene eletto alla seconda votazione con 27 voti favorevoli una scheda bianca e un voto per Maurizio Verna che sceglie di non votare e di uscire dall'aula il presidente Melarangelo nel prendere la parola annuncia che saranno presto nominati alcuni consiglieri delegati ancora sulla città niente inquinamento dal rogo di giocattoli i dati dell'analisi alta rimessi ieri sera al comune a Sant'Atto attesa l'ordinanza di revoca dei divieti secondo i dati ufficiosi nessun problema per l'aria l'acqua i terreni circostanti alla fabbrica andata a fuoco appunto a Sant'Atto ancora neve la provincia anticipa un milione in attesa degli otto milioni per l'emergenza del 2017 via Millie va incontro alle imprese è una cifra record la provincia ha speso 22 milioni di euro per fare fronte alle emergenze per ora stanziati 8 milioni poi ancora notizie dalla provincia di fama la ex su facebook ammonito raffica di misure di prevenzione da parte della questura di Teramo siamo ad Alba Adriatica liberate le spiagge privatizzate rimossi ombrelloni sdraio e attrezzature lasciati nei tratti pubblici e poi ancora a Giulianova arrestati due pensionati spacciatori nascondevano 310 grammi di eroina in un sottotetto alla Rocca la polizia ieri mattina per notificare un divieto di dimora alla vicina spacciatrice di droga è stata appunto alla Rocca per una perquisizione e poi ancora la cronaca a Giulianova soluzione per il dottor Danniballe il medico di pronto soccorso era accusato di obicidio colposo per la morte di un paziente giustizia sommaria e siamo a Roseto non era lui il maniaco davanti al liceo Saffo scambiato per il ragazzo che si spogliò davanti ad una studentessa è stato picchiato e poi diffamato ma a processo vanno gli accusatori ribaltate le indagini sul 42enne indagato per molestie sessuali poi ricapitolate le circostanze è finito nei guai perché il suo aspetto combaciava con la descrizione fornita dalla vittima perché aveva una golf grigia avanti ancora e siamo allo sport ecco qui via al ritiro Zichella Teramo che occasione mancano ancora due giocatori Ragneri e Fiordaliso partiremo con il modulo 4-3-3 e poi ancora si complicano alcune trattative il difensore Alessandro Celli sembra indirizzato verso Fano mentre su Ragneri c'è grande concorrenza di altre squadre oggi via agli allenamenti martedì prima amichevole a Cascia anche se il raduno di ieri ha già due casi Graziano e Sales a proposito di raduno ieri appunto c'eravamo e abbiamo intervistato tra gli altri il presidente Luciano Campitelli Presidente Campitelli era l'estate del 2008 e lei prendeva in mano la Teramo Calcio estate 2018 10 anni e 11 campionati è una cosa bella ti posso dire francamente che ho lo stesso entusiasmo forse di più di quel del primo anno perché lì non mi rendevo conto a che gioco giocavamo ripartiamo molto alleggeriti ripartiamo da un progetto molto nuovo fatto veramente con una linea comune e che devo dire devo dire che oggi abbiamo allestito una squadra giovane con dei ragazzi meno giovani penso che l'accoppiamento di queste due entità possa portarci dal sorrido che vedo di tutti i nuovi perché i nuovi gridano a 48 denti e quindi l'avete visto anche voi che questo entusiasmo negli anni passati non c'era eravamo tutti chiusi tutti impauriti abbiamo fatto l'iscrizione una squadra in un momento veramente terribile perché io ero scoraggiato avevo voglia solo di fuggire ero perché quando le cose poi non vanno bene però non ho mollato non ho abbandonato i miei tifosi non li ho abbandonati li ho riscritto la squadra siamo in C sono cadute tante teste importanti dalla B in sotto cioè sono molto orgoglioso di me di tutta la piazza dei miei tifosi perché poi il tifo è una cosa che voglio dire basta una vittoria per tornare a volerci bene a stimarci e quest'anno torneremo tutti a volerci bene e a stimarci perché ce lo meritiamo perché non abbiamo abbandonato nessuno né noi né i miei tifosi i nostri tifosi veri e né il sottoscritto che ha continuato a lottare che ha lottato che ha dato anni senza ferie pur di poter far sì che il terramo calcio rimanesse in questa categoria la questione fideiussione visto che qualche tifoso ha espresso qualche preoccupazione cosa possiamo dire siamo andati in Banca d'Italia per capire se questa società era poteva assicurare era iscritta e quindi per noi è tutto a posto abbiamo pagato 30.000 euro per avere la non 5 lire 30.000 che l'anno scorso ne pagai 7 e quindi noi stiamo in una botte di ferro sui soci eventuale allargamento sicuramente credo che un altro paio entreranno più diciamo il signor Cantagalli con il signor Cantagalli abbiamo trovato un'intesa per quanto riguarda il campo e possiamo mettere a reddito quel bene perché oggi senza il bene del campo nessuna società può andare avanti torniamo sul centro con le pagine dello sport siamo al Pescara e alle parole del presidente Sebastiani Pescara mi piaci Macinne un grande colpo ancora il presidente abbiamo allestito un buon organico in sintonia con Pillon Repetto dice che non si occupa di mercato è stato preso per altri ruoli e poi in basso Sansovini il Delfino deve puntare playoff il bomber oggi inizia ad allenarsi al poggio degli olivi auguro a Pillon di riportare in alto la squadra sapevo di non essere convocato per il ritiro voglia di giocare e attendo la chiamata giusta e poi ecco il raduno del Teramo sul centro Teramo si riparte dai giovani Zichella è una grande sfida scatta la stagione dei Biancorossi oggi primo allenamento al Bonolis il presidente Campitelli vedo entusiasmo la rosa costruita è all'altezza e poi in basso per la serie Diva stese scatenate in arrivo Colarieti Giulianova prende Frulla eccellenza il Chieti tratta Pachito Morales poi a proposito di serie D ecco il Francavilla ieri c'è stata la presentazione del neotecnico Paolo Rachini ovviamente ha parlato anche il presidente Gilberto Candeloro Pescara Ascoli e Teramo vi racconto com'è andata parola al presidente dopo il tentativo vano di rilevare alcune società ecco alcuni passaggi della sua conferenza di ieri con Sebastiani c'è stato solo un approccio lui è un bravo amministratore non ha la necessità di vendere io e Campitelli non potevamo coesistere ad Ascoli sono stato usato per accelerare la trattativa con Bricofer volevo prendere il lanciano per festeggiare il centenario con la squadra in serie C e poi appunto spazio anche al neotecnico Paolo Rachini che ha i playoff nel mirino gruppo coeso e un bel calcio ecco la mia ricetta durante la presentazione il direttore sportivo Dercoli annuncia gli acquisti di Bedin e Sanchez siamo carichi e andiamo a chiudere ora con le pagine del messaggero ecco qui di nuovo il Pescara Antonucci l'ultimo arrivato in casa bianca azzurra bomber da Di Francesco la Roma lo ha dato al Pescara grazie alle buone referenze del mister giallorosso ho cercato di apprendere i segreti dei campioni con cui ho giocato ha detto Antonucci e poi ancora sul fronte mercato accordi con il Fano e dell'Isalde verso l'Inter poi ancora Francavilla si presenta è stato il Rachini dei e poi sempre per la serie di Harry Shiba riabbraccia vasto dopo 11 anni farò la mia parte e poi ancora per la serie C Teramo entusiasmo al debutto ma si profilano già i casi di Graziano e Sales che la società per adesso non ha convocato sul fronte mercato Altobelli verso la Sicula Leonzo Celli è sfumato piace Fiordaliso giovane difensore del Torino e poi per il basket di A2 Wesley Persson inizia a Roseto la mia carriera da professionista il figlio di Wesley Persson lui è Wesley Persson Junior ex giocatore dei Phoenix Suns finiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo l'appuntamento con i nostri TG alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 e poi questa sera una puntata davvero speciale di Velò il nostro settimanale dedicato al ciclismo che non sarà trasmesso come sempre accade dai nostri studi ma sarà in esterna e dunque sarà una sorpresa per gli appassionati delle due ruote la trasmissione condotta da Jacopo Forcella con l'ideatore Luciano Rabottini grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.